Un'operazione iniziata nel febbraio del 2019 e conclusasi proprio questa mattina alle prime luci dell'alba. 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 22 complessive droga, sequestrata in particolare cocaina e marijuana, ben 700 piante trovate in Spagna, e sì perché questa operazione è arrivata fino alla Spagna. Le persone coinvolte sono tutti o la gran parte di origine albanese e rumeno e quindi si segnala già una novità, la collaborazione tra albanesi e rumeni e soprattutto i rumeni che normalmente non delinquono, almeno per quanto riguarda Arezzo nel settore della droga. Solitamente i soggetti di nazionalità rumena non erano dediti a questo tipo di reati, quindi è una nuova realtà con la quale ci siamo e non so se ci dovremo ancora confrontare. I carabinieri sono andati fino in Spagna, dicevamo a Girona, dove hanno trovato e hanno lavorato in collaborazione con le varie forze dell'ordine spagnole, hanno trovato le 700 piante di marijuana. Le altre province coinvolte sono Trento, Brescia, Vercelli, Perugia, dove sono stati effettuati due arresti, e Firenze. Tra i corrieri quasi tutte erano donne perché si pensava che le forze dell'ordine ovviamente fossero meno fiscali con i controlli. Un pensiero sbagliato visto e considerato che sono state prese nell'operazione dei carabinieri. Sono stati segnalati complessivamente 172 assuntori, quasi tutti a reti. Complessivamente siamo nell'ordine di diversi chili delle varie tipologie di sostanze superfacenti, in particolare per quanto riguarda la cocaina parliamo di sequestri nell'ordine di qualche centinaio di grammi, per cui sostanze superfacenti è ancora da tagliare, quindi il cui valore va moltiplicato secondo quello che è il taglio, che è più o meno 1 a 4 o 1 a 5. Grazie.